Ciao Pronto? Come chiamate il responsabile? Il responsabile? Il direttore? Tu chi è? Chi è qui all'acqua? Chi sei chi è più da chi chiama il rumore? Ma che stai a dire? Questa è una catena con immagini cambiare E' una catena con immagini cambiare E' una catena con immagini Ma non puoi andare da chi Cioè da tutti questa roba cinese Ma non è semplice A me, se mi ha subito a fare di casa E' un po' di ricordi E' un po' di ricordi No, io sono qua E' un po' di scuzzate E' un po' di scuzzate E' un po' di scuzzate Chiama la mia, chiamate a tutti Tu mi chiamano dire il turno Perché tu scaccia la capa Basta, ma mi chiamo il direttore Perché io sono venuto Con il stato un abito Per fare la testicone Ma ci ha piaciuto tutta la pelliccetta Ma io voglio parlare con il responsabile Buonasera Io, questa E' un po' di scuzzate 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 Che d'acqua Guerrano … Come ci umbo Per fare la正at Villa E' un po' di scuzzate Il trotzdem En confiedoria E' un po' di scuzzate Curacca M encore E' un po' di scuzzate N Magnò E' un po' di scuzie Mi dà chiamare la finanza. Mi lo voglio sapere. Mi lo voglio sapere. Voglio dire tutti i responsabili. Mi ha chiamato la finanza. Chiamare pure la sicurezza. E' così. Mi ha già messo le mani in taglia. Per i gruppi. Mi ha chiamato la sicurezza. La sicurezza. Quando mi hanno messo le mani in taglia. Mi ha già pagato. Senza il sconto. Mi ha già ringraziato. Mi ha già messo vestito pure. Non è che la vicina. Sì. Sì. Sonone che ci vuole dappare. In questa settimana. Per più della mia paletta però. Ma non è che può fare? Ci sono. Mi ha detto qui a volevo. Ho visto essi benvenuti. No. Mani. Non è quello che non è. Allora. 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 Iniziamo. Che cos'è? Non è quello che ho fatto. Il mese. No. io sono fatti una piccola in media non me lo fa ma io sono 150% io non puoi una piccola perché hai già un mese in mano un tagazzo ma che fa un Cristo non esiste non lo vanno a tutti perché la neggiunga perché non ti voglio non ti voglio non ti voglio ma tu l'italiano roba cinese, le scelte in Italia, se non sbagliate un 170, non si vengono qui ma non si vengono qui, non si vengono qui, non si vengono qui non si vengono qui, non si vengono qui, non si vengono qui e mi chiamano pure la sicurezza, ma che cosa c'è tu, che stai andando qui che Mario ha la pulito la piccola parte, quasi non si vengono qui mi sono vengono qui, non si vengono qui, non si vengono qui non si vengono qui, non si vengono qui, non si vengono qui ok, si volevo mettere il silenzio, io ma sto uccidendo non mi vengono qui, non mi vengono qui, non mi vengono qui la pelicetta me l'ha scoppiata, eccola, la pelicetta sta posta, 70 euro si arriva a vedere certi rumi lei, che l'ha come le veste? lei fa così perché non ti toglie la pelicetta capito? io sono venuta a quei casi, la signorina si è alterata ha chiamato la sicurezza, io non ci ho messo le mani della cassa io sono venuta a dire che la cosa da me, che era posta io sono venuta a dire che la cosa da me, che era posta io sono venuta a dire che la cosa da me e poi state a dire che la cosa da madrina madrina, che ho fatto, ci sono anche 150 persone perché ho fatto la madrina, ho fatto con la melissenza sta via e numero? ma che lo fanno buono, sono le più buono ma guardate qui, non me lo vengono qui ha uscito che non ci vogliamo